Con il termine tumore al polmone si fa riferimento a diverse tipologie di cancro, ciascuna trattabile con terapie specifiche. Il tumore non a piccole cellule è il più frequente, ma sono state individuate diverse mutazioni genetiche, come quella sull'insezione delle zone 20. L'impegno della ricerca in questo ambito sta però rivoluzionando l'approccio alla malattia e trasformando la vita dei pazienti. La conoscenza e il modello di tumore polmonare è stato forse uno tra i primi che ha permesso la conoscenza di questi sottogruppi di patologie e che ha abbinato a queste patologie la cura più idonea, quindi la cosiddetta medicina di precisione. Utilizzare un farmaco mirato, cioè con un'altissima probabilità di successo, rispetto a una malattia molto aggressiva ci permette di ridurne la sua aggressività, di migliorarne il controllo, quindi di ridurre il volume e di chiaramente di tenerla sotto controllo per molto tempo. Ad oggi utilizzare questi farmaci in presenza di un'alterazione biologica predisponente del tumore non fa altro che migliorare la sopravvivenza di molto, non di poco. Quindi ad oggi abbiamo dei dati di sopravvivenza che sono due o tre volte rispetto a quelli che avevamo 15 o 30 anni fa per questo tipo di malattia. Una diagnosi precoce può fare la differenza, tenendo conto che il tumore non ha piccole cellule viene spesso diagnosticato ad uno stadio tardivo. I test genetici si rivelano essenziali non solo per la diagnosi, ma anche per una terapia personalizzata. Un'analisi del tessuto, un'analisi biologica dei pazienti affetti con tumore del polmone, in particolare il nosquamoso adenocarcinoma, è in grado di cambiare completamente quello che è il trattamento di una malattia. Il test genetico e l'accesso a quest'ultimo diventa fondamentale. Abbiamo effettivamente compreso che esistono dei geni che possono effettivamente indurre da per sé, diciamo da soli, la cosiddetta cancerogenese, quindi la trasformazione della cellula sana in cellula ammalata. Su questi fattori genetici, che non necessariamente sono ereditari, perché sono propri del tumore in realtà, noi riusciamo a utilizzare dei farmaci che possono bloccare fondamentalmente la crescita, quindi farmaci mirati. Per dare informazioni su come la ricerca stia rivoluzionando l'approccio alla malattia, è disponibile il sito web OncoVoice, dedicato all'approfondimento, all'informazione e alla conoscenza di diversi tumori. L'Ansen si rivolge anche ai pazienti, si rivolge anche ai pazienti offrendo delle piattaforme, degli ecosistemi come OncoVoice, dove il paziente può trovare delle informazioni comprensibili, facilmente accessibili, e anche una community dove confrontarsi e scambiare esperienze, perché la mia esperienza anche personale come paziente è che il confronto è fonte di conoscenza e avere la possibilità di fare un confronto su una piattaforma sicura, una piattaforma dove i contenuti sono controllati, dove anche la disease awareness, cioè le informazioni sulla patologia, sono veramente serie, precise, mirate, ci sono consigli utili, è una chiave per supportare i pazienti in questo percorso difficile.